il Lady Gaga ragazzi un applauso allora io volevo ringraziare Francesco che è fan di Lady Gaga quindi diciamo che è anche il primo fan di Castelverde il primo? si il primo fan il fan numero uno si dice le canzoni le so il balletto lo so la canzone è mia si, quale ti piace il più da Lady Gaga vabbè dai la prima gliela dedichiamo ragazzi allora ragazzi io mi invito a venire davanti capito? avvicinatevi mi fa piacere venite tutti davanti fate casino venite tutti davanti allora intanto io ringrazio l'organizzazione La Nessand Diego, Francesco tutti voi che siete qui che mi ha fatto piacere che siete venuti sia amici che noi persone che ho conosciuto quindi fare un applauso alla Nessand un grande applauso alla giuria a tutti quanti e soprattutto anche a voi io vi voglio tutti metti a tutti uuuh dai dai vado a fare un ragazzi ma tu sta trappando stai adattando? è un ragazzo è un ragazzo un ragazzo Grazie a tutti.